Che cosa stai cercando? Arno, che cosa hai fatto? Dimmelo. Piove da una settimana. La radio dice che è stata la pioggia. E la pioggia è pericolosa. In quanti siamo rimasti? E perché proprio noi? Qui possiamo sopravvivere alle piogge. E se c'è contagio, anche dopo. Da quant'è che non dormi? Sei proprio bella, lo sai? Almeno mi dici dove stiamo andando. Dove? Senti, cosa ho detto? Senti, cosa ho detto? Senti, cosa ho detto? Senti, cosa ho detto? Sembra tutto come prima. Come se non fosse successo niente.